Doppia festa a Vallecchia, frazione di Pietrasanta, che per tradizione ospita a Santo Stefano la Fiera del Santo Patrono. Nella piazza e nelle stradine intorno all'antica Pieve Romanica, eretta per la prima volta a lungo il tracciato della via Francigena nell'VIII secolo, si è svolto l'appuntamento più amato dai residenti, accompagnato dalla storica corsa podistica. Già dal mattino molti visitatori provenienti soprattutto dai comuni della Versilia Storica e i residenti della zona si sono affacciati ai mercatini di via Pigli e dintorni. Una fiera che nonostante i cambiamenti dei costumi riesce a resistere, pur in un calendario non facilissimo, all'indomani di pranzi e cenoni natalizi. Di solito va bene, però dipende dal tempo, dipende dalla gente. Quest'anno sembra che sta andando un pochino meglio, però vediamo un po' fino a stasera, perché la gente non può mangiare sempre la stessa roba, almeno esce per fare un girettino. L'ho scoperta quest'anno, dopo aver fatto il Natale a Pesasanta, il mercatino di Natale a Pesasanta, l'ho scoperta quest'anno. Penso di ritornarci, perché mi piace l'atmosfera, la gente passeggia, guarda, chiede prezzi, anche se il Natale è stato alle spalle di ora, però la gente si vede che gli piace sempre passeggiare e comprare. Voi da dove venite? Noi arriviamo su D'Alba, sulle Langhe, la prima volta. Speriamo che si movimenti ancora di più, però abbastanza positiva. Ma diciamo che dopo Natale funziona leggermente meno, perché la gente è magari un po' abbuffata della cena di Natale, però nell'insieme non ci possiamo lamentare. Questa è la cinquantasettesima fiera che ci faccio, non è che ci ho fatto un anno o due, sono cinquantasett'anni. Quindi funziona? Funziona, c'è negli anni, ora ho perso tanto, anni indietro la gente ce n'era morta di più, però io ho tanti clienti, non mi voglio lamentare, quando è un 80 anni e ci viene il prodotto glielo dà buono.